La Regione, pertanto, avrebbe dovuto fornire al Ministero del Lavoro una relazione periodica sul raggiungimento degli scopi prefissati. Nel marzo del 2010 il Ministero del Lavoro ha erogato alla Regione la prima tranche delle risorse per un importo pari a 2,5 milioni di euro. Tuttavia, poiché la Regione non ha fornito alcun riscontro in ordine all'utilizzo di queste risorse, il Ministero del Lavoro ha provveduto al recupero delle stesse mediante compensazione con altri crediti vantati dalla Regione Campania. Ad oggi, sebbene il Ministero del Lavoro abbia dimostrato anche recentemente la disponibilità ad affrontare la questione in esame, la Regione non ha formulato alcuna proposta finalizzata all'occupazione del personale coinvolto nel progetto BROS. Conseguentemente, le risorse residue pari a 7,5 milioni di euro non sono state a tutt'ora né impegnate né erogate. Posso, pertanto, confermare ancora una volta la disponibilità del Ministero del Lavoro a derogare queste risorse qualora la Regione Campania formuli idonee e concrete proposte attuative volte alla realizzazione del progetto, così come era stato convenuto. Grazie, Ministro. A facoltà di replicare il Deputato Marcello taglia la tela. Due minuti, prego. Ministro, la ringrazio per la risposta precisa ed esaustiva. Rimane la perplessità sulla mancanza di un dialogo, da quello che comprendo, tra il suo Ministero, la Regione Campania ed eventualmente il Comune di Napoli e l'area metropolitana, la città metropolitana che ha di fatto superato l'amministrazione provinciale. È evidente che stiamo parlando di una cifra significativa, 7 milioni e mezzo. Non penso che ci siano in tante altre regioni cifre di questo tipo disponibili dal 2009. Quindi avere da parte sua una informazione ancora più dettagliata su quelle che sono le procedure che attualmente sarebbero ancora possibili da utilizzare per fare in modo che questi 7 milioni e mezzo vadano nel solco della intesa interistituzionale è certamente qualcosa di molto utile. Tenendo conto della drammatica situazione della disoccupazione giovanile e non solo nella nostra città, le ricordo che quelli erano progetti che non avevano limite di età, quindi andavano ad intercettare anche fasce di età superiori a quelle che normalmente vengono coperte, per esempio, attraverso garanzia giovani. Quindi le chiedo, Ministro, di essere ancora più preciso eventualmente interpellando direttamente la Regione Campania e il Comune di Napoli su quelle che sono le procedure che stanno utilizzando. La ringrazio, collega. Colgo l'occasione per salutare studenti e docenti dell'Istituto Tecnico Enrico Mattei di Casamiccio La Terme, in provincia di Napoli, che seguono i nostri lavori. Passiamo all'interrogazione numero 321-18 dei deputati Scotto ed altri, concernente chiarimenti in merito alla nomina dell'Avvocato Andrea Gentile, a consigliere d'amministrazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il deputato Arturo Scotto, facoltà di illustrare la sua interrogazione, è come sempre a un minuto. Prego. Grazie, Presidente. Signora Ministra, l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è un polo d'eccellenza per l'attività di ricerca biomedica e di prevenzione delle patologie oncologiche, principale polo di oncologia pediatrica in Italia, secondo in Europa. La Ministra Lorenzin, nel discorso...